ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video e allora oggi facciamo il punto della situazione per un problema che sto riscontrando e vorrei capire anche quanti di voi hanno lo stesso mio problema se è un problema di di molti o è solo mia sfortuna e allora io circa tre settimane fa forse due settimane fa ho fatto la domandina per i 600 euro di indennità avendo partita iva avendo tutti i requisiti per andare a richiedere appunto questo bonus che lo stato ha messo a disposizione ho fatto la domandina facendo la domandina l'ho fatta non il primo giorno ma il giorno dopo perché il primo giorno c'era il sito dell'inps impallato completamente indomani mattina mi sono svegliato col presto ho fatto la domandina ho fatto tutti i vari passaggi presentata mi hanno confermato mi hanno inviato la domanda diciamo mail di protocollo ora però c'è un problema ragazzi io a differenza di amici parenti conoscenti fratelli di amici amici di amici di parenti di conoscenti ragazzi non ho ancora ricevuto nulla non ho ancora ricevuto nulla e modi faccio vedere accediamo al nell'account questo è l'account dei 600 euro la zona riservata del sito indignità 600 euro e il servizio dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 8 accesso libero sabato e domenica ok andiamo andiamo a vedere informazioni invio della domanda esiti perfetto e guarda qui cosa allora la domanda io l'ho presentata il 24 2020 oggi siamo 29 4 2020 e ancora in attesa di esito ragazzi io ma come credo tanti altri non stiamo lavorando non stiamo prendendo soldi da nessun posto le spese ci sono le bollette arrivano per stamattina io personalmente attenzione team mi manda il sms che entro qualche ora si attiva la promozione 15 euro e glieli devi dare o ancora la linea internet la luce l'affitto e le a sé e tutto il resto quelle le dobbiamo pagare ragazzi ma non è mai possibile che ancora non sia arrivato nulla e poi non si sa neanche il perché cioè in attesa di esito cioè questo stato io lo ho qui da lo controllo da circa due settimane piene piene perché prima non erano ancora diciamo in pagamento e non lo stavo controllando mi avevano consigliato amici anche il commercialista stesso di verificare i dati verificare l'iban verificare tutte queste dati tutto corretto nome corretto cognome corretto iban corretto c'era un errore vera quello del numero cellulare poi ho chiamato l'inps tre ore di l'attesa per poter trovare l'operatore abbiamo aggiustato anche il numero di telefono però ragazzi quello mi serviva per richiedere il pin semplificato perciò facendo quello ho potuto richiedere il pin semplificato per poi richiedere appunto questa sovvenzione dei 600 euro perciò io prima di fare la richiesta dei 600 euro avevo tutto in regola anche il numero di telefono ok ora perché ad oggi non ho ricevuto i soldi non ve lo so dire ragazzi so solo però che mi girano i coi è veramente perché non è corretto vedo tutti sento tutti che ricevono i soldi e perché per me non c'è nulla cos'ho io in meno di loro l'altra sera ho sentito conte che diceva ci scusiamo per i ritardi stiamo facendo il possibile per saldare tutti ma quando cioè io non vorrei che da qui a un'altra due tre settimane e il tutto cada in se lo dimenticano ecco quei due tre o dieci o vento cento mille che siamo che ancora non l'abbiamo ricevuti non vorrei che dato che siamo una minoranza non ce li danno più è mai possibile non è mai possibile perché l'inps sempre pagato e inail sempre pagato e tutti le porcherie di tasse sempre pagate anno dopo anno mai saltato niente e ora che c'è realmente bisogno perché nell'effettivo non si sta lavorando che ragazzi io sono fermo con da un mese sette e mezzo su per giù cioè non è semplice non avere introiti e voi lo sapete anche meglio di me perché come sono io siete voi però tanti di voi hanno avuto la fortuna di ricevere questi 600 euro che poi attenzione ci sciogliamo in musino che ovviamente sono pochi perché c'è chi paga 400 500 euro di affitto e c'è chi ha da pagare due tre bollette però ragazzi meglio di niente cioè si siete fortunati chi già li ha ricevuti io sta finendo il mese ancora non ho nulla ora attendo non lo so un'altra settimana poi non so neanche se si può fare qualcosa fanno tutto in automatico i sistemi eccetera eccetera ora nella teoria più assoluta vuol dire che il sistema è impallato e ci sono tanti pagamenti in smistamento e il mio è in attesa di esito poi è in attesa di esito non è neanche in attesa di pagamento ecco io non capisco perché questo in attesa di esito questo per me vuol dire che si sta aspettando l'eventuale conferma se possono non possono darmeli ma dico questo punto interrogativo perché esiste perché c'è anche questo punto interrogativo nei miei confronti che ho partita iva ho sempre pagato tutto ragazzi tutto è puntuale ve lo può dire solo il commercialista tutto tutto anche levandome lì da dalla bocca sempre non da ora da quando ho avviato la l'attività ho sempre pagato tutto e questo è il ringrazio che mi danno poi vincirono i coglioni nella realtà comunque va bene così prendetelo come come sfogo se hai visto questo video anche tu sei in attesa sappi che non sei da solo credo che siamo un paio anche non quantificabili e comunque scrivi sotto fammi sapere se anche tu sei in attesa e vediamo se riusciamo a capire il perché di questi ritardi iscriviti al canale ragazzi eventualmente un commento ve l'ho detto mi piace ciao e al prossimo video